e ciao a tutti ragazzi sono altri bentornati sul mio canale sono tornati live reaction ho saltato e lo ammetto milan liverpool udinese milan milan napoli e un po di milan e milan roma lo so lo so purtroppo ero fuori ero in vacanza vi ho fatto alcuni post partita e pubblicherò più avanti la live action di milan liverpool quella l'ho fatta non l'ho pubblicata perché non ho avuto tempo di editarla e la pubblicherò con me magari live action e tro oggi venezia milan non sto benissimo quindi io al di là della mia salute momentanea vi chiedo una cosa sola vincere grazie campo ragazzi da non sottovalutare assolutamente perché la roma ci ha perso la juve ci ha pareggiato quindi da fare molta 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 attenzione o leggiamoci la formazione cina signori se il magic mai che importa florenzi calu lugabbi eternamente in difesa tonali e bagaio con centrocampisti se le makers di alz e leao dietro a z appunto ibra bagaio con preferito a crunic vabbè ragazzi andare con tre centrocampisti soli fino a febbraio è dura è quasi di paolo zanetti che ha messo in difficoltà tantissime big si parte iniziati milano di andare a riempire quello spazio lì nella tre quarti e lasciare lo bella questa palla leao 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 ibra zanetti terzo minuto 1 a 0 ottavo gol in campionato per z appunto ibra palla di ternandez sontusissima per leao la difesa out tattana palla dentro ibra appoggia in rete 1 a 0 ragazzi c'è gol bellissimo c'è leao è proprio infuocato infuocato ragazzi no a ramu a ramu va il cross calulu adesso entra gamba tesa sul petto di uno ovviamente tra moriscono no ma c'è ma che cazzo vai a prendere un giallo al quinto del primo tempo per un fallo così c'è solo se le meckers può ragazzi e se le meckers giallino mario lo sta giocando ternandez se le meckers ternandez brevi piazza ibra leao destro bella pala di romero ti ha dato una botta leao ragazzi ragazzi è sto teleconista qua che pare stia parlando tipo in una lattina ma florenzi cerca ternandez al volo erano schema nooo se meckers non far minchiate va dentro uh per calulu romero in due tempi uh leao mamma mia leao l'ultimo difensore l'ha fermato ragazzi no vabbè credibile è vero con un risultato così parti psicologicamente dal 1 a 0 il che non è male però devi tenere botta eh devi tenere botta appunto quando se le meckers c'è ibra nel mezzo e non gliela dà e ibra si incazza con se le meckers mi pare anche giusto eh ok 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 attenzione tonali che recupero mamma mia ragazzi uguale recupero sul zagnolo e non era rigore non raccontiamoci stronzate sul zagnolo non era rigore mai punizione un po' lontani nateo tonali e florenzi questa è la circostanza c'è i brevi sul secondo palo va da hernandez centrale romero in angolo potentissima ma centrale ragazzi bello brendiaz brendiaz no florenzi schema è uscito perfettamente sti tiri potenti ma centrali hanno un portiere in porta dell'area di rigore che giocava nel magisterio in atide se non vado errato quindi uh tonali mamma mia l'ha fatta un'altra ha chiuso un triangolo leggere il pallone dividendo sin duda quanto si è aperto con le gambe ragazzi gabbiano che fallo di merda superiore che ovviamente giallo che ha messo il prossimo volta che lo fa non lo fermi tutti in questo caso vanno a attaccare il pallone avviso messa lì magnana sicuro no ho perso palampadu no 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 e aveva giocato bene ampadu di testa fuori aveva giocato troppo bene ma caioco bisognava aspettarsela la minchiata ragazzi bisognava aspettarsela non ho avuto modo di reagire a quest'azione ma cazzo non va bene queste disattenzioni ragazzi meno male c'era Florenzi ha preso anche bene il tempo Florenzi posizione regolare ripeto è proprio così ho avuto ho avuto di assasi iscritto ragazzi Florenzi perciò ritagliela ritagliela no va da leao leao destro Romero dopo deviazione arrivava a Florenzi Ma no No Non lo fa Ma c'erano anche difensori davanti a lui Quello è il bello Corridoio libero Leao Come li salta Leao Leao Angolo Peccato Ne ha saltati due Di cui uno l'ha messo a sedere Cioè È incredibile Ibra Leao Guarda Florenzi Bello Florenzi Può tirare Lo fa Che schifo Intercettato Dai fischia 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 E fischia Dai 1-0 Milan Gol di Ibra Al secondo Dai raga Era andata Magna Preciso Precisissimo Dai Su È entrato Messias Per Seremekes Ma meno male raga Leao dentro Ibra Stacco per Leao Lì però Cioè in queste occasioni devi Fare di più Leao dentro per Ternandez Dentro Ternandez Sò È tornato Teo 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 Come è l'andata Al Venezia Secondo è il primo tempo Secondo è il secondo tempo 2-0 Dai 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 Un quizaz cosa? Chiedono un fallo di mano Non ho visto Chiedono un check del Varon Addio no 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 non è rigore questo Dai 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 Aramu va il cross dentro Mischia messa fuori E basta Ste mani alzate a chiedere rigore Avete rotto le palle Mamma mia Ibra Messias Bel colpo Fuori di poco dai Teo Dalla via Dalla via Dalla via Che c'è le anche parte Eh Svogoda Ibra 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 Romero Teo Calcio di rigore Rosso Ha fermato a soli anni Porto le zoffo Sentrato Adios Allora c'è un po' da tirare orecchia a Ibra qui Per calcutato il pallone salta Primo uomo E fa l'altro tocco Ma a tiro serve il compagno Beh qua poi Calcio di rigore Netto Netto ragazzi Ibagnez parte due Teo Nandez dal dischetto Ovvio che non ci va Ibra Ho paura E' tornato Teo E' tornato Teo 3 a 0 Dai E' tornato Teo La tocca Romero La tocca La tocca Ma non basta 3 a 0 Venezia in 10 Festa grande Dai 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 Fuori a ramo il quesanzo Vuol dire che Sta gettando la spuglia a Venezia Per forza Comunque Milan Da E' un po' in poi Ultime tre partite Molto realizzativo eh 10 gol in tre partite Non è male Fuori Leao Dentro Rebic Per forza Esatto Esatto Uh Pala verso Rebic Angolo Ampadu Salvatagione 7 corner a 0 Per il Milan Dai Florenzi Florenzi Messias C'è Braim Diaz Mamma mia Che orrore Messias Ibra Ibra Uh Ha saltato l'uomo E' davanti il portiere De l'Antolta No Peccato Uh Rebic Per Maldini Maldini C'è Giru C'è anche Eterna E' spela tripletta Hai fatto la peggior scelta Che potessi fare Qua beh Malzocchi La fossa Teo Sa penetrare Il fior di lino Nel Venezia Siamo arrivati A fare entrare I cantanti I fiori I personaggi Delle fiabe Bello Rebic Dentro Giru Giru Che non è velocissimo C'è Maldini C'è Girè C'è Girè C'è Rebic Maldini 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 Prova a destra La giro Vale C'è la Rebic Ragazzi non guardiamo però davanti Che cazzo è successo fra Ha tornato indietro Ha fatto quel cazzo che vuole Finisce qua ragazzi Terza vittoria consecutiva del Milan E vi ringrazio per la visione di questo video Lasciate like Iscrivetevi al canale Ci vediamo per la Hoppa Italia Alla prossima